Sulla smaltimento delle armi al Cetli servirebbero il brillamento controllato, ma il Ministero della Difesa sembra invece intenzionato all'ossidatore che costa meno ma inquina di più. La Procura ha chiesto all'ASL uno studio sulla salute dei lavoratori che lavorano al ferrocromo, ma emerge un dato allarmante in tutto il territorio dell'ASL Roma F. Nella tomba del Riballos la storia di Tarquinia premiati alla Pisana, gli archeologi che hanno partecipato agli scavi brai alla doganaccia hanno scoperto fuori dal comune. Calcio eccellenza va in scena domani, il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Civitavecchio attende la Caninese, il Cervetti riospita i cugini della Dispoli. Ben trovati dal Tg Alto Lazio per scongiurare la realizzazione di un ossidatore termico al centro chimico, la soluzione ci sarebbe e i militari dovrebbero conoscerla. Si chiama brillamento controllato e certamente eviterebbe un ulteriore inquinamento dell'aria che i Civitavecchiesi respirano, ma sentiamo tutti i particolari nel nostro servizio. Iprite, Fosfogene, Arsenico e Adamsite. Molto presto potrebbero essere questi i nuovi compagni di ventura di una Civitavecchia che ormai da anni vive assopita da un inquinamento bellicoso che abbranca prima le coscienze, poi i polmoni. Perché questo è il prezzo da pagare per ospitare a Santa Lucia il Cetli NBC, un centro d'eccellenza internazionale nel campo del disarmo chimico, che tuttavia Civitavecchia al suo comprensorio non porta assolutamente alcun beneficio. Tre anni fa, era in luglio 2010, la provincia lanciò l'allarme. L'esercito, per garantire lo smaltimento delle armi, è già pronto al passaggio da un ossidatore chimico ad un ossidatore termico, che tradotto significherebbe realizzare sul territorio un pericolosissimo inceneritore che, sorgendo in ambito militare, riuscirebbe a dribblare la delibera 110-2003 del Consiglio Comunale, quella che da anni vieta sul territorio ogni tipo di combustione. Nello stesso articolo fu detto che gli ingegneri militari erano già al lavoro da tempo per individuare una nuova tecnica in grado di garantire lo smaltimento delle armi chimiche, superando l'obsoleta tecnologia in uso da oltre 20 anni. 20.000 proiettili chimici da neutralizzare è un numero impressionante, che spaventa anche chi in quel centro ci lavora da anni. Migliaia di tonnellate di agenti tossici legati ad armi, in alcune casi risalenti al 43 e provenienti da tutta Italia, finora venivano trattate mediante un procedimento chimico che prevedeva di impastare le scorie tossiche in enormi blocchi di cemento. E senza soluzioni specifiche per lo smaltimento, i blocchi sono stati lasciati per anni esposti alle diverse condizioni meteorologiche, con il conseguente alto rischio per terreni e falde acquifere. L'Alparazio, non avendo mai avuto l'opportunità di effettuare controlli mirati, trattandosi appunto di una struttura militare, si limita a tacere e la stessa cosa fa il reparto logistico di Roma, del quale il CETRI NBC dipende, pur sapendo benissimo che esiste una tecnica meno inquinante per assicurare lo smaltimento di quelle armi, il brillamento controllato. Ma perché l'esercito da oltre 4 anni continua a scartare questa soluzione? Secondo quanto sarebbe troppo costosa, visto che obbligherebbe il Ministero della Difesa a dotare il reparto di Santa Lucia di nuove celle di personale specializzato, a partire dagli artificieri. E allora la soluzione è semplice, si sacrifica ancora una volta la salute dei cittadini. D'altronde il centro chimico, che si tratti di rifiuti o armi da smaltire, rimane il sogno nel cassetto di tutti i politici, indipendentemente dal colore, di ogni ordine e grado, costantemente alla ricerca di tappeti sotto i quali nascondere la polvere di un paese che sta piano piano diventando invivibile. E forse il punto di svolta è vicino e l'ossidatore termico si farà davvero, a giudicare dalla rassegnazione della politica locale. Una politica che, sotto l'aspetto della tutela dell'ambiente, si è dimostrata e continua a dimostrarsi troppo debole e costantemente sottomessa alle correnti romane. In casa PD si lavora per il dialogo e la sintesi della maggioranza. Ed è proprio questo lo spirito con cui ieri il neo capogruppo del PD, Annalisa Tommasini, ha incontrato il suo gruppo consigliare per fare il punto della situazione, alla luce dello scorso consiglio comunale che ha visto licenziare il provvedimento sull'Italcementi, per il quale spiegano i Democrat, va stabilita la cabina di regia e l'approvazione dei cinque punti dell'ordine del giorno aggiuntivo. Un incontro quello di ieri al Pincio tra i Democrat che ha visto la partecipazione su sollecitazione del capogruppo PD anche delle liste civiche. Nei prossimi giorni è inoltre prevista anche la convocazione di Selle. Un plauso alla metodologia messa in atto dal capogruppo PD arriva anche da Sinistra Ecologia e Libertà. Non si può non salutare positivamente, spiega il coordinatore di Selle, Pier Franco Peris. L'ottima proposizione è che il capogruppo in consiglio comunale Annalisa Tommasini, insieme al partito di appartenenza, opera nei confronti della maggioranza politica di centrosinistra che sostiene l'amministrazione del sindaco Tidei. Proposizione è che sin dall'inizio, Sinistra Ecologia e Libertà, Junge Peris e i suoi istituzionali hanno caldeggiato nel convincimento che solo con il sano e leale confronto possano mettersi in campo azioni amministrative che abbiano come unica finalità il bene collettivo. L'ultimo consiglio comunale e la fase di preparazione che lo ha preceduto ne è stata la dimostrazione. La Procura della Repubblica ha chiesto all'Asla uno studio sullo Stato di salute di chi lavora allo stoccaggio del ferrocromo. La decisione fa parte dell'indagine sulla banchina 23 del Porto dove appunto si lavora il materiale ferroso. Ma grazie a questa iniziativa della magistratura emerge che esiste un solo tecnico addetto a questo tipo di lavoro su tutto il territorio della Roma F. Per tutti i raguagli il servizio. C'è un solo tecnico addetto al controllo sulla salute dei lavoratori dell'industria in tutto il territorio dell'Asla RMF. La clamorosa verità è emersa grazie all'indagine sul ferrocromo avviata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Il procuratore Gianfranco Amendola infatti, nell'ambito dell'inchiesta che sta coordinando direttamente, ha chiesto all'Asla una relazione relativa appunto ai controlli sulla salute degli operai che lavorano lo stoccaggio del materiale ferroso. O meglio, ha chiesto proprio di interrogare, naturalmente come persone informate sui fatti, gli addetti a questo tipo di controllo. Ma in Procura si è presentato il solo dottor Felice Tidei, l'unico tecnico che lavora a questo tipo di controlli. Non solo, ma quest'ultimo ha grossi problemi anche relativi alla strumentazione necessaria per eseguire il proprio lavoro. Ultima problematica quella inerente alla bilancia di precisione con cui si misura il peso delle polveri ritenute dannose per la salute. Per cui è complicatissimo riuscire a conoscere un'esatta diagnosi di quelli che potrebbero essere i danni causati dal respirare quelle polveri. Il dottor Tidei si è comunque impegnato a far conoscere il risultato di questo studio sui lavoratori del ferrocromo alla magistratura inquirente, ma certo una relazione dettagliata non sarà sul tavolo del procuratore a stretto giro di posta, considerate appunto le difficoltà logistiche del tecnico a svolgere questo compito. Serie di furti in città. La notte scorsa è stato preso di mire il negozio Animal Shop di Via Achille Montanucci, un bottino di circa 200 euro con il vetro della porta sfondato da un sasso lanciato con violenza. Sul posto si sono portate le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e per prelevare le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso posizionate all'interno del negozio, attraverso le quali si potrebbe arrivare ad avere qualche dettaglio utile per risalire agli autori del gesto. Nel weekend invece, come già accaduto nelle passate settimane, sono stati colpiti quattro box ed esercizi commerciali al mercato. In questo caso il bottino è di poco conto, giusto pochi euro rimasti di fondo cassa. Diversi invece i danni alle strutture, in particolare alle sere cinesche e dei box. E sempre in fine settimana sono stati visitati un paio di appartamenti in città. Anche in questo caso, per fortuna, il bottino non è stato ingente, ma i civitavichiesi continuano a chiedere maggiori controlli. È pronto per essere inaugurato il nuovo ecocentro comunale in zona industriale. Previsto per venerdì, infatti, il taglio del nastro che apre la strada all'arrivo di nuovi finanziamenti per l'estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta. Per i raguagli, il servizio. Sarà inaugurato venerdì prossimo in zona industriale il nuovo ecocentro comunale. Sono infatti conclusi i lavori finanziati dalla provincia di Roma e dal Pincio per garantire al territorio un impianto fondamentale per lo smaltimento dei rifiuti. Soprattutto con questa inaugurazione si apre la strada per l'arrivo di nuovi finanziamenti da parte di Palazzo Valentini per l'estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta, finanziamenti collegati proprio alla realizzazione dell'impianto. Un importante passo in avanti ha spiegato soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi. Abbiamo atteso la scadenza del contratto per il vecchio ecocentro e in questo modo andremo anche a risparmiare circa 40.000 euro di canoni passivi l'anno per l'affitto dell'isola ecologica provvisoria. Un'opera fondamentale per il territorio perché garantisce una risposta in termini di rispetto dell'ambiente. Oggi con questo taglio del nastro possiamo anche accelerare sulla raccolta differenziata. Con l'arrivo dei nuovi finanziamenti infatti si potrà trasformare l'esperimento di differenziata porta a porta attualmente in fase sperimentale in tre quartieri a pratica istituzionalizzata in tutta la città. Con o senza l'avvio della raccolta differenziata città pulita molto probabilmente dovrà essere venduta. Ad esprimere una prima sentenza a tal proposito è il sindaco Pietro Tidei durante Comune Informa in onda su provincia tv. Tutto a colpa dei debiti accumulati che hanno portato l'amministrazione comunale a mettere in liquidazione HCS prima e Argo e città pulita poi. Una volta ricapitalizzata HCS e fatto confluire le sotte in Civitavecchi Servizi, per Tidei la stessa città pulita sarà appetibile. Tutto con maggiori vantaggi per i lavoratori che ad oggi guadagnano solo 700 euro a mese. All'Arena pincio la celebrazione della festa del sacrificio organizzata dalla comunità islamica, in particolare da quella bengalese. Presenti il sindaco Pietro Tidei e Liman Rahman. La cerimonia religiosa è in coincidenza con la conclusione del pellegrinaggio alla Mecca in servizio. Islam in festa per le celebrazioni dell'Aid al-Hadda, nota in Italia come la festa del sacrificio. Dopo il saluto del sindaco Tidei si è tenuta questa mattina la cerimonia religiosa nel piazzale dell'Arena pincio. La comunità islamica ha celebrato la festa dell'offerta a Dio che ricorre ogni anno nel mese lunare islamico di Dualiji, in cui ha luogo il pellegrinaggio canonico alla Mecca, detto Aji. L'amministrazione comunale è stata lieta di ospitare i fedeli che hanno potuto pregare alla presenza dell'imam Hafiz Mothur Rahman. Presente il presidente dell'associazione Bangladesh, Hussein Monir. Il sindaco Pietro Tidei ha inviato un messaggio in nome dell'amministrazione comunale, porgendo gli auguri a tutta la comunità islamica presente a Civitavecchia, augurandosi che la città possa finalmente accogliere e condividere i valori di tutte le comunità presenti sul territorio. Ha inoltre ringraziato la comunità bengalese per l'ormai consolidata amicizia e per aver organizzato questo bel momento di incontro e di preghiera. In questo mese di preghiera si festeggia la più grande ricorrenza per il mondo islamico, nello stesso giorno in cui inizia l'Aid al-Mada, conclude il Aji, il pellegrinaggio alla Mecca, che ogni anno attira milioni di fedeli nella città santa. Verranno giovedì pomeriggio alle 17.30 in cattedrale gli incontri del ciclo Narrare la fede, iniziativa di formazione che la diocesi di Civitavecchia Tarquinia ha proposto in occasione dell'anno della fede. Il testimone che verrà narrato nell'ultimo incontro sarà Giovanni Paolo II, il pontefice che sarà proclamato santo il 27 aprile del 2014, raccontato dal cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano e vicario generale del Papa per la città del Vaticano. Ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità a seguire ancora la nostra informazione.